Togli un miliardo di euro di finanziamento ai partiti che chiamano rimborsi elettorali, comincia da lì, vai a Cortina nel negozio, ma l'asino che vola, l'asino che vola, ma stai scherzando? E poi attaccano me che sono un reazionario, perché parlo di Equitalia, dove c'è lo sfratto coato, dove vengono messe fuori da casa tua, non si tocca la casa a nessuno, perché se tocchi la casa a qualcuno, che non ha più lavoro, non ha più futuro, non ha speranze, con questa gente, con questi esempi che ha da fanno, tirano fuori il fucile, ma lo devono capire, stanno rischiando veramente forte, fuori tutti, tutti, destra, sinistra, fuori, che non si permettono di ripresentarsi nel 2013, perché veramente succederà l'ira di Dio se si ripresentano.